Ciao amici, eccomi tornata con una ricetta siciliana che sono sicura vi farà impazzire. Ecco a voi, rolli di tamburi, il pesto alla trapanese! Mettiamo a mollo i nostri pomodori in acqua calda e poi così sarà più semplice togliere la pellicina. Togliamo anche i semini e li puliamo per bene. Aggiungiamo il basilico ben lavato, l'aglio rosso siciliano, uno spicchio andrà bene, poi le nostre mandorle pelate, il pecorino e un filo d'olio. A questo punto non ci rimane che frullare! Io non aggiungo sale perché il pecorino è già salato, però voi potete aggiungerne un pizzico se volete. Et voilà, il nostro pesto è pronto! Buon appetito! Buon appetito!